buongiorno si sono pantaloncini corti e maglietta lo so che non è estate però guardate qua come sono ridotto mamma mia non so come fare con piani mollicini comunque vi avevo detto che nel video tag che ho fatto in collaborazione con greca madonna che freddo no cioè per dire vi voglio far vedere una cosa e ma questo è il nostro pomeriggio oggi nuvolo laggiù c'è uno spiraglino di azzurro tira vento 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 comunque tira tanto vento fa freddissimo comunque adesso caffè anche se l'ho già preso poi ne faccio un altro comunque vi volevo dire di ver due cose diverse cosine allora una che ieri mi ha chiamato mio babbo dicendomi che domani il perito andrà a vedere la casa a fare la perizia per la casa e speriamo usciamo le dita che me la valuti di più di quanto io ho chiesto perché se me la valuta meno no in mutuo non me lo danno e spero e poi dovrò anche estinguere il finanziamento della macchina perché sarà un forse sarà un problema avere il finanziamento della macchina acceso come che forse non mi daranno in mutuo comunque adesso vediamo se poi vogliono che estingo la macchina chiamerò la finanziaria con cui ho il finanziamento e li chiederò quanto mi manca da pagare così estingo il finanziamento perché non forse non lo potrò ottenere comunque in tutto ciò poi mi farò un altro tatuaggio però non c'è so cosa farmi ma non so ancora bene dove se farmelo o alla spalla però questa perché da questa parte ho già questo qui questo qua se ve lo ricordate questo qua praticamente quindi l'altro tatuaggio lo farò sulla su questo abbraccio qua però mi piaceva messo qui qua così non lo so o qua qua o alla spalla però ora non so bene come già nel senso mi intanto mi volevo fare delle iniziali ovviamente come se non le già come se non le avessi ne ho già tre però me ne faccio altri due per cioè due però una delle due ha un doppio significato per intendersi poi vi volevo anche dire che che ho intenzione anche di cambiare macchina e di prendermi la gip renegade però questo sarà un discorso che farò più in là perché ancora appunto devo aspettare che mi diano in muto poi bisogna vedere comunque vedremo un po che cosa in frattempo arrivato il cane il mio ragazzo amore comunque vabbè adesso aspettiamo dovrò vedere cosa mi dice anche il perito o quanto me la valusa poi vedremo un po cosa mi serve per me vabbè comunque le cose che volevo dire ve l'ho già detta poi tecnicamente dovrei andare anche dai cinesi perché dovrei comprare una cosa però mi sta anche fatica francamente non c'ho voglia quindi non ci vado mi volevo dare una sistemata al viso perché è un po piana di bollicini guardate qua sembro un non so che cosa comunque casomai se ho tempo adesso sono le 5 ma ci farò un salto però adesso vediamo ok mi sono data una sistemata mi sono cambiata mi sono messo le scarpe adesso arrivo decine si può decidere di andarci che devo comprare una cosa tanto poi dopo ve la faccio vedere appena comprata ci vediamo dopo ok sarà tornata adesso sono in macchina sono già comprato quella cosa da cinesico e questo è il supporto per il telefono da tenere in macchina quando c'ho i vlog e adesso sono qua da troni perché mi serviva la chiavetta usb però ho pensato vabbè tanto mi servirà più in là allora quindi non l'ho comprato poi la verrò a comprare non l'ho perso Ok, sono a casa Io vi lascio, vi mando un grosso bacio Ci vediamo al prossimo video, mi raccomando Seguitemi sui social Vi lascio i link giù nell'info box Seguitemi anche sul mio secondo canale Trovate il link a sempre giù nell'info box Ciao